Questa sera alle ore 21 andrà in onda la seconda puntata di C'era una volta carosello, i tempi cambiano, la trasmissione condotta da Giorgio Rocca dedicato al cambiamento dei tempi e alle novità tecnologiche sempre più evolute che caratterizzano i tempi moderni. Rocca analizza i cambiamenti con i loro vantaggi e gli svantaggi anche per loro influenza sulla vita di tutti i giorni e sul mondo del lavoro. Partendo da un film dedicato ai Queen, Rocca nella seconda puntata rifletterà su ulteriori cambiamenti che riguardano anche il modo di ascoltare la musica e la nostra sicurezza alla guida. Altre interessanti riflessioni le potrete ascoltare direttamente da Giorgio questa sera alle 21 su Imperia TV. Se volete porre dei timidi affrontare o delle domande a Giorgio Rocca potete inviare una mail ai tempi cambiano comunità tutt'attaccato comunità senza accento chiocciolagmail.com